Noi abbiamo cercato di continuare sulla scia dell'estate, quindi su eventi di qualità coinvolgendo le eccellenze della città come il Conservatorio e il Liceo Artistico quindi abbiamo allestito un programma che parte da sabato 6 dicembre e arriverà fino al Capodanno un programma ricco di appuntamenti appunto con i concerti del Conservatorio in due date poi avremo anche un concerto e la danza con il Liceo Artistico che ci daranno una mano anche sulla parte scenografica di Piazza Salotto e poi avremo dei cori gospel itineranti su tutte quelle che sono le aree di pregio della città non tralasciando le nostre periferie anche con le luminari, gli addobbi natalizi e anche con degli eventi di qualità Sicuramente noi abbiamo fatto molto con poco rispetto agli anni passati e poi abbiamo avuto questa idea innovativa di aprire il cartellone natalizio anche gli eventi di Capodanno e gli addobbi natalizi con un bando di sponsorizzazione rivolto ai privati, agli imprenditori a tutti coloro che vogliono sostenere in questo particolare momento di crisi economica l'amministrazione comunale appunto per aiutarci ad accendere il Natale che serve per rilanciare l'attrattività turistica della città e anche sotto il profilo commerciale Partiamo come dicevo prima da sabato 6 dicembre con un evento molto importante perché per la prima volta apriremo gli spazi del mercato riqualificato di Piazza Muzzi con un evento di moda e quindi lanceremo quest'idea di mercato che abbina le tradizioni ad una nuova vocazione eventistica sul modello dei mercati europei Assessore, a proposito di Capodanno ci sarà anche quest'anno il tradizionale concerto di fine anno? Sicuramente, noi vogliamo che il Capodanno a Pescara, nella città più importante di Abruzzo continui ad essere sia un grande evento di qualità logicamente aspetteremo la chiusura del bando, delle sponsorizzazioni che si chiuderà l'8 dicembre e vogliamo rilanciare questa grande tradizione eventistica che poi è anche un'occasione di socializzazione anche per quelli meno fortunati che a Capodanno non possono permettersi una serata di svago quindi è giusto che Pescara anche in un momento di crisi faccia un Capodanno ad alti livelli anche per lanciare la città che deve diventare sempre più turistica e attrattiva e poi ci sarà anche il Capodanno di Pescara Vecchia con il consorzio di Pescara Vecchia